Io personalmente, se devo dirle la verità, i giornali che si riferiscono alle questioni politiche da venerdì scorso non li vedo neanche più. Sono soltanto... quindi anche della telefonata di Salvini, se devo essere sincero, me l'ha detto entrando qui in ufficio questa mattina un amico, ma non ne avevo la più parli di idea. Io credo che in questo momento la cosa... fra me il Presidente Conte è stata assolutamente superata, adesso fra pochi minuti andrò a partecipare alla solita riunione di coordinamento del mattino, vediamo un po' la situazione. Ecco, diciamo che ci aspettiamo che i numeri inizino a ridursi, questa è l'unica cosa. Purtroppo siamo ancora in una fase di crescita.